Una società cresce e prospera quando gli anziani piantano alberi consapevoli che non potranno mai sedersi all'ombra di quegli alberi. È un proverbio greco e lo adoro perché mi ricorda che ho una missione, migliorare la salute e la sicurezza dei miei colleghi e magari di chiunque altro. E tu? Stai piantando alberi? Trova la tua strada per migliorare la società.